E mi ha detto che resta fuori il ragazzo, io ho detto perché, chi c'è stasera? Tu devi dire a lui, a me non mi interessa niente, tu che ti rimente da c***o, tu che resta fuori, tu che resta fuori, tu che resta fuori, giò, facciamo un malafiuga, fuite. Allora ti dico una cosa, tu ero figli, ero stasato a vita, 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 ero stasato a vita. Paola, parla parla che il discorso che voi mi avete chiamato per fare lavorare questa persona, io mi sono messo a disposizione...